Acclamate al Signore Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a lui con lieti canti, acclamate voi tutti al Signore. Signore, riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti, siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia, andate a lui con lieti canti, acclamate voi tutti al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo invitati dal Signore alla mensa della parola e dell'Eucarestia. Riconosciamo con umiltà di essere peccatori, perché con il cuore libero e guarito possiamo accogliere questa parola che Dio riserva a ciascuno di noi per il nostro pellegrinaggio, la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amm. Signore, pietà! Signore, pietà! Cristo, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà! Signore, pietà! Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, Ti rediamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del Tuo Spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per Sua intercessione concedi a noi, Tuoi fedeli, partecipi del mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della Sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio Suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Benedici il Signore, anima mia Benedici il Signore, anima mia Benedici il Signore, anima mia Quanto è in me, benedica il suo santo nome Benedici il Signore, anima mia Non dimenticare tutti i suoi benefici Benedici il Signore, anima mia Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità Salva dalla fossa la tua vita Ti circonda di bontà e misericordia Benedici il Signore, anima mia Misericordioso e pietoso è il Signore Lento all'ira e grande nell'amore Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno Benedici il Signore, anima mia Com'è tenero un padre verso i figli Così il Signore è tenero verso quelli che lo temono Perché Egli sa bene di che siamo plasmati Ricorda che noi siamo polvere Benedici il Signore, anima mia Ma l'amore del Signore è da sempre Per sempre su quelli che lo temono E la sua giustizia per i figli dei figli Per quelli che custodiscono la sua alleanza Benedici il Signore, anima mia Alleluia, alleluia Alleluia Alleluia, alleluia Alleluia Ti rendo lode, oh Padre Signore del cielo e della terra Perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno Alleluia, alleluia Alleluia Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Dal Vangelo secondo Matteo Alleluia, alleluia In quel tempo Gesù disse Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti E le hai rivelate ai piccoli Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza Tutto è stato dato a me dal Padre mio Nessuno conosce il Figlio se non il Padre E nessuno conosce il Padre se non il Figlio E colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi E io vi darò il ristoro Prendete il mio gioco sopra di voi E imparate da me, che sono mite e umile di cuore E troverete ristoro per la vostra vita Il mio gioco, infatti, è dolce E il mio peso, leggero Parola del Signore Glorie a te, oh Cristo Celebriamo la festa di Santa Caterina da Siena Una persona, una santa che è tra gli umili Tra quelli che Dio ha scelto Ha rivelato le cose di Dio I misteri di Dio Così come Dio li ha rivelati ai tre pastorelli Abbiamo sentito che Gesù Ha nascosto queste cose del Regno di Dio Ai sapienti, agli intelligenti e ai doti di questo mondo Ma le ha rivelate ai piccoli Agli umili di cuore A quelli che il mondo è margina scatta Perché sono ignoranti Sono poveri Ecco, è piaciuto a Dio Di amare al mondo E di amare queste persone Dal cuore povero semplice Perché è un cuore umile Il cuore dei sapienti, degli intelligenti, dei dotti Inevitabilmente a volte diventa Un cuore superbo, orgoglioso, arrogante Ecco, il Signore si serve appunto Delle persone semplici Tra i quali ci siamo anche noi Se riconosciamo questa semplicità di cuore Come necessità di accogliere Il messaggio che Dio vuole dare a ciascuno di noi Abbiamo sentito anche questo rapporto tra padre e figlio Nessuno conosce il padre se non il figlio Nessuno conosce il figlio se non il padre Come conoscere la realtà del padre e del figlio? Ce l'ha detto Maria Maria è la mediatrice Maria anche lei è una tra gli umili di cuore Ecco lei che ha accettato la volontà del padre Avvenga di me secondo quello che tu hai detto E verso Gesù Anche lì si è fatta strumento di mediazione Fate tutto quello che vi dirà E quindi anche noi dobbiamo entrare in questa logica di mediazione Tra Dio e l'umanità Con la nostra semplicità di vita Nella quotidianità Essere qui è bello Si rinnova il nostro spirito Si ritrova la vitalità della nostra spiritualità Poi siamo chiamati a rientrare nelle nostre case Nei nostri luoghi E lì diventa sempre un po' più faticoso Si affievolisce quella fede che abbiamo maturato qui Ecco però dobbiamo essere sempre perseveranti e forti Soprattutto nella preghiera Come possiamo conoscere il Signore Come possiamo conoscere il Padre Rimanendo uniti a Lui attraverso il rapporto della preghiera Quello che Maria continua a chiederci Pregate Pregate Per compiere la volontà del Padre Pregate per conoscere la Sua parola Abbiamo sentito nella prima lettura Che ci indica qual è la strada per conoscere I misteri di Dio E aprire il nostro cuore Se noi rinneghiamo la verità Siamo bugiardi Perché viviamo nelle tenebre e non nella luce Se diciamo di essere peccatori Viviamo nel peccato Perché dobbiamo con umiltà confessare Di essere tutti quanti peccatori Bisognosi di misericordia Di perdono Quel perdono che Dio viene a donarci con grande larghezza Come con grande larghezza dona il suo amore E tante volte noi resistiamo A questo amore gratuito Che Dio ci dona E che Maria ci presenta Sapeste quanto Dio vi ama Sapeste quanto io, Maria, vi amo Eppure noi nella nostra quotidianità Abbiamo sempre delle giustificazioni Delle scuse per rimandare Il tempo della preghiera Abbiamo tante cose che facciamo E' vero, ci sono tante preoccupazioni Tanto tempo per il lavoro e la famiglia Però il tempo più importante per la nostra vita è quello della preghiera Del rapporto di Dio Lo rimandiamo sempre Perché c'è sempre un qualcosa prima Che crediamo prioritario E invece la priorità è proprio Dio Il Figlio Maria E' lì che diventiamo pure persone semplici e umili Ma capaci anche di solidarietà Di condivisione con gli altri Se diciamo di amare Dio e non amiamo gli altri Anche lì siamo bugiardi Perché non possiamo amare Dio in modo personale Una fede intimistica E poi con gli altri Essere distanti Distaccati Difidenti E indifferenti Il Vangelo ci ha detto Attraverso le parole di Gesù Che Venite a me voi tutti stanchi e oppressi Io vi darò ristoro Ecco un invito che il Signore ci fa Pressante Venite, venite a me Troverete ristoro Ecco noi siamo venuti qui Per ritrovare quella freschezza della nostra fede Questa forza E dice Gesù Prendete il mio gioco su di voi Imparate da me che sono mite umile di cuore E troverete ristoro per la vostra vita Ecco voi sapete il gioco Il gioco è quello che si mette addosso A un asino A un bue A una coppia di bue Perché possano lavorare insieme Ad arare il terreno Il gioco ci fa abbassare la testa E noi guardiamo per terra Il nostro gioco è quello del peccato Che ci fa guardare per terra Ci rinchiude su noi stessi E perché Gesù ci dice che il suo gioco è leggero? Perché il suo gioco è il primo che lui ha portato La croce Qui si riferisce al gioco anche della legge Una legge che era pesante da sopportare Schiacciava le persone Le rendeva schiavi Un certo legalismo Gesù dice il mio gioco non è così Il mio gioco è infatti dolce E dal peso leggero Perché lui guarda alla persona Guarda quello che c'è nella persona Non è un gioco che schiaccia E fa abbassare la testa Ma ce la fa rialzare Rialzare per vedere il volto di Cristo misericordioso Per vedere la Madonna nel suo cuore immacolato E allora ecco in conclusione Che cosa dobbiamo fare E all'inizio del Vangelo Siamo invitati oggi a lodare il Signore Chiediamoci quante volte lodiamo il Signore Nella nostra preghiera sicuramente noi chiediamo Imploriamo una grazia, un aiuto, un soccorso Ma quante volte lodiamo il Signore e lo ringraziamo Siamo un po' come quei dieci lebrosi Siamo stati graziati Abbiamo ricevuto una grazia E poi dopo ritorniamo alle nostre faccende Uno solo è tornato Ecco impariamo a ringraziare il Signore A essere riconoscenti A ritornare a Lui Grati, riconoscenti Con un canto di lode Così come lo ha fatto anche Santa Caterina da Siena Ho qui un foglietto Che riporta una sua frase molto bella Perché appunto è un po' come sigillo dei nostri pellegrinaggi Noi siamo qui per chiedere E lei ci ascolta E allora ecco questa frase di Santa Caterina Che dice Poiché Tu sei infinito, Signore E noi invece siamo finiti Ci dai più di quanto noi possiamo desiderare La misura dei nostri desideri Non equivale mai alla misura con cui Tu sai Puoi e vuoi colmarci e saziarci Ecco allora Apriamo il nostro cuore a questa fiducia A questa speranza che diventa certezza Il gioco del Signore Anche quando siamo nella malattia Nella sofferenza Nella depressione Quando vediamo tutto in un modo così buio Disperato Ecco il momento della grazia Lasciamoci guidare da Maria Che ci conduce a Cristo E che Cristo ci conduce A conoscere il Padre Un Padre che è ricco di grazia E di misericordia E la nostra risposta Sia la lode E di misericordia E di misericordia E di misericordia E di misericordia Fratelli dilettissimi Per l'intercessione della Santa Vergine Caterina Patrona d'Italia ed Europa Presentiamo la comune preghiera a Dio Padre Per il nostro Paese Per il nostro Paese Per il mondo intero Rispondiamo insieme Benedici i tuoi figli Signore Benedici i tuoi figli Signore Per l'amore che Santa Caterina Per l'amore che Santa Caterina Tua serva fedele Ebbe verso la Chiesa E verso il Papa Proteggi il Santo Padre Francesco E tutto il popolo cristiano E confermaci nella fede e nella carità Preghiamo Benedici il tuo popolo Signore Per lo zelo che Santa Caterina Ebbe per la ricomposizione della concordia Tra le città italiane Guarda Signore il nostro Paese E donagli prosperità e pace Preghiamo Benedici i tuoi figli Signore Per l'istancabile sollecitudine Che Santa Caterina Ebbe verso i poveri I malati I carcerati Fa che la presenza della donna Nei problemi vitali del nostro tempo Edifichi una società Più ospitale e fraterna Preghiamo Benedici i tuoi figli Signore Per la sapienza Di cui hai colmato Santa Caterina Nelle cose terrene ed eterne Concedi anche a noi Di essere tuoi fedeli discepoli Alla scuola del Vangelo Preghiamo Benedici i tuoi figli Signore Per la fede ardente Che Santa Caterina Ebbe per l'Eucaristia Concedi anche a noi Di attingere a questa divina fonte Luce e forza Per il nostro cammino Preghiamo Benedici i tuoi figli Signore O Dio Che Santa Caterina da Siena Hai conciliato Mirabilmente la preghiera continua E il servizio ai fratelli Fa che non manchi Nel nostro tempo Questa duplice Sorgente Della tua benedizione Per l'edificazione Della Chiesa E per il sereno progresso Della nostra patria Per Cristo Nostro Signore Tra le mani Non ho niente Spero che mi accoglierai Chiedo solo di restare accanto a te Sono ricco solamente Per l'amore che mi dai E per quelli che non l'hanno avuto mai Se mi accogli mio Signore Altro non ti chiederò E per sempre la tua strada La mia strada resterà Nella gioia e nel dolore Fino a quando tu vorrai Con la mano nella tua camminerò Pregate perché il nostro sacrificio Sia gradito a Dio Padre Onnipotente Il Signore dice Dalle tua mani Questo sacrificio Allora gloria Dio Cristo Suono Per il nostro Dio Padre Onnipotente Accogli o Dio Questo sacrificio di salvezza Che ti offriamo Nella festa di Santa Caterina da Siena E fa che l'insegnamento della sua vita Ci renda sempre più ferventi Per rendere grazie a te Fonte di ogni bene Per Cristo Nostro Signore Ammene Il Signore Sia con voi E con il tuo Spirito In alto i nostri cuori Sia con voi Sia con voi Rendiamo grazie Al Signore Nostro Dio E cosa buona e giusta E veramente Cosa buona e giusta Renderti grazie E innalzare te L'inno di benedizione E di lode Dio Onnipotente Ed Eterno Nei tuoi santi Che per il Regno dei Cieli Hanno consacrato la vita A Cristo tuo Figlio Noi celebriamo Padre L'iniziativa mirabile Del tuo amore Poiché tu riporti l'uomo Alla santità Della sua prima origine E gli fai pregustare i doni Da te preparati Nel mondo rinnovato Per questo segno della tua bontà Uniti agli angeli e ai santi Con voce unanime Cantiamo l'inno della tua gloria Santo 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 è il Signore Dio dell'universo I Cieli Nella terra Sono pieni Nella tua gloria Hosanna 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 Nell'alto Dei Cieli Nell'alto Nel netto colui che viene Nel nome Del Signore Hosanna Hosanna Nell'alto Dei Cieli Padre veramente santo Fonte di ogni santità Santifica questi doni Con l'effusione del tuo spirito Perché diventino per noi Il corpo e il sangue Di Gesù Cristo Di Gesù Cristo Nostro Signore Egli offrendosi Liberamente Alla sua passione Prese il pane Prese il pane E rese grazie Lo spezzò Lo diede ai suoi discepoli E disse Prendete Prendete E mangiatene tutti Questo è il mio corpo Offerto in sacrificio Per voi Dopo la cena Allo stesso modo Prese il calice E rese grazie Lo diede ai suoi discepoli E disse Prendete E bevetene tutti Questo È il calice Del mio sangue Per la nuova Ed eterna Alleanza Versato Per voi E per tutti In remissione Dei peccati Fate questo In memoria Di me Mistero Della fede Annunciamo la tua morte Signore Proclamiamo La tua risurrezione E l'attesa Della tua Minuta Celebrando Il memoriale Della morte E risurrezione Del tuo figlio Ti offriamo Padre Il pane Della vita E il calice Della salvezza E ti rendiamo Grazie Per averci Ammessi Alla tua presenza A compiere Il servizio Sacerdotale Ti preghiamo Ti preghiamo Umilmente Per la comunione Al corpo E al sangue Di Cristo Lo Spirito Santo Ci riunisca In un solo corpo Ricordati Padre La luce La luce Del tuo volto Di noi tutti Abbi misericordia Donaci Di aver parte Alla vita Eterna Insieme Con la Beata Maria Vergine Madre di Dio Con San Giuseppe Suo Sposo Con gli Apostoli Tutti i Santi Santa Caterina Che in ogni tempo Ti furono Graditi E in Gesù Cristo Tuo Figlio Canteremo La tua gloria Per Cristo Con Cristo E in Cristo A te Dio Padre Onnipotente Nell'unità Dello Spirito Santo Ogni onore E gloria Per tutti i secoli Dei secoli Prima di partecipare Al banchetto Dell'Eucalistia Segno di Riconciliazione Di comunione Con Dio E con i fratelli Preghiamo Come il Signore Ci ha insegnato Padre Nostro Che sei nei cieli Sia santificato Il tuo nome Venga Il tuo regno Sia fatta La tua volontà Come in cielo Così in terra Dacci oggi Il nostro pane Quotidiano Rimetti a noi I nostri debiti Come noi Li rimettiamo I nostri debitori E non ci indurre In tentazione Ma liberaci Dal male Liberaci O Signore Da tutti i mali Concedi la pace I nostri giorni E con l'aiuto Della tua Misericordia Vivremo sempre Liberi dal peccato Sicuri da ogni Turbamento Nell'attesa Che si compia La beata Speranza E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Tuo regno Tuo potenza E la gloria Nei secoli Signore Gesù Cristo Che hai detto I tuoi apostoli Vi lascio La pace Vi do la mia pace Non guardare Non guardare i nostri peccati Ma la fede Della tua chiesa Donale Unità e pace Secondo la tua volontà Tu che vivi e regni Nei secoli Dei secoli Amén La pace E la comunione Del Signore nostro Gesù Cristo Siano sempre Con voi E con il tuo spirito Nello spirito Di Cristo risorto Ci scambiamo Il dono Della pace Agnello di Dio Che togli Peccati Del mondo Abbi Pietà Di noi Agnello Di Dio Che togli Peccati Del mondo Abbi Pietà Di noi Agnello Di Dio Che togli Peccati Peccati Del mondo E io Sarò salvato Ciao 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 Canto la comunione Pane del Cielo. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Tu ci fai come te. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Tu ci fai come te. No, non è rimasta fredda la terra. Tu sei rimasto con noi per nutrirci di te. Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Tu ci fai come te. Sì, il Cielo è qui su tutta terra. Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te, nella tua casa. dove vivremo insieme a te tutta l'eternità. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Tu ci fai come te. No, la morte non può farci paura. Tu sei rimasto con noi. e chi vive in te, vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Pane del Cielo, sei tu Gesù, via d'amore. Tu ci fai come te. Buongiorno. Grazie. 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 Signore, questo cibo spirituale, che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunichi a noi la tua vita immortale per Cristo nostro Signore Prima della benedizione finale su di noi Don Emilio che presiede l'Eucaristia benedice anche gli oggetti religiosi che avete con voi Signore ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Frangesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi e con il tuo Spirito vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Amén la gioia del Signore risorto sia la nostra forza andate in pace grazie a Dio e buona giornata a tutti buona continuazione il 13 maggio a farve Maria a tre pastorelli in covaleria Ave, 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 Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria in mano rosario portava portava Maria che abita i fedeli del cielo la via Ave, 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 Ave Maria regina cedì regina cedì letare alleluia qui a quem meru isti portare alleluia resurrexit alleluia ora pro nobis Deo alleluia grazie a Dio